Una folla silenziosa di pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia ha partecipato alla fiaccolata sulla spianata di Santa Domenica di Placanica che ha dato il vie alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell'apparizione della Madonna dello Scoglio a Fratel Cosimo. A guidare il corteo, il vescovo dalle deogesi di Locri Geragimo, signor Francesco Liva, il quale ha ufficiato il rito nel nuovissimo santuario. Un momento di raccoglimento tra fede e preghiera che ogni anno attira l'attenzione di migliaia di persone. Sono venuta tre anni fa, ho chiesto una grazia e me l'ha fatta. E dico sempre grazie alla Madonna. È specialissima perché è una mamma veramente che i suoi figli si rimette tutti sotto il mando e dà tante grazie a chi chiede con amore. E ci piace per andare per la Madonna, anche perché dà aiuto a tutti. Ci siamo trovati qui per caso e abbiamo avuto un segno della sua presenza molto forte. Ilario Balì per la CINUS24 Al prossimo episodio Al prossimo episodio